La ragione che stiamo effettuando può essere un grande traguardo vincere la Coppa, però ora non dobbiamo pensare già alla finale, ma dobbiamo pensare che stasera c'è questa partita, dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile e solo così possiamo arrivare in finale vincendo la doppia sfida. Uno della linea difensiva dell'Inter, Bastoni, protagonista di questa stagione.